eccoci qua dal fiume dove ci sono le sorgenti sul fure vabbè che bella l'acqua ciao Lia adesso vediamo chi prendiamo là c'è la Carmen che sta rientrando dal fiume la abbiamo la Danielina con la Danila la Danila e qui invece chi ci abbiamo ciao no 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 vabbè adesso però ci sono anch'io aspetta che vediamo se riesco a come faccio a prendermi non ci riesco a prendermi come faccio a girare sta roba vediamo eh così va bene è andata a prendere l'acqua da Carmene vabbè adesso vediamo qua siamo sotto ai sassi di Rocca Maratina e qui c'è la sorgente sorgente parco regionale di Rocca Maratina ecco là ci sono i sassi la superaria intanto noi non ci arriviamo va bene fine della trasmissione e adesso spero che sia partito e adesso è il momento della regista di riprendere la regista che ci bacia ci abbraccia regista cammina un po cammina così io posso vedere ecco e guarda che lo ha sorbole vedi vedi